Esistono due idee di paese, dove le banche sono al servizio delle famiglie e delle imprese e tutelano il risparmio. Non sfruttano i cittadini e i loro sacrifici di una vita per arricchire i soliti noti. Dove le imprese sono sostenute, dove lo Stato aiuta gli artigiani e i commercianti. Non dove sono costrette a chiudere strozzate da un fisco iniquo nell'indifferenza di chi governa. Dove la dignità è garantita, la qualità della vita migliore. Dove nessuno resta indietro. Non dove la povertà aumenta giorno dopo giorno, in cui ci si sente poveri ancora prima di essere. Ci sono due idee di paese. Il 4 marzo abbiamo una possibilità. Partecipa, scegli, cambia. Scegli, cambia. Scegli, cambia. Scegli, cambia. Scegli, cambia.